Ciao a tutti, oggi prepareremo la crema al cioccolato fondente. Il tempo di preparazione della ricetta è di 15 minuti circa. Ingredienti sono latte intero, zucchero semolato, cioccolato fondente, farina di tipo 00 o amido di mais, uova e vanillina. Diamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e il cioccolato fondente ed azioniamo il bimbi per 20 secondi, da velocità 6 a velocità 10. riunire sul fondo del boccale con la spatola, aggiungere le uova, la farina, il latte e la vanillina. ed azioniamo il bimbi per 8 minuti, 90 gradi, velocità 4. La crema è pronta, trasferiamola in una ciotola, coprire con pellicola trasparente e lasciare raffreddare completamente. crema al cioccolato fondente, ideale per farcire torte e bignè o come dolce al cucchiaio. grazie e alla prossima ricetta! grazie a tutti! Grazie a tutti.